Ciao Steph! Ciao Fere, come va? Bene, bene, mi vedi? Mi fa piacere? No, non ti vedo, sei a casa? Guardi alto Steph, devi guardare nel cielo! Perché stai volando? Perché sto volando? Eh, ovviamente l'ho portato finalmente all'ultima evoluzione e adesso posso volare, dai, mi sembra bellissimo, no? Arrivo Fere! No, non mi copiare, però... Ci abbracciamo? Doveva essere il mio momento, Steph, vattene, non ti voglio più! Abbiamo lo stesso Pokémon, non può essere il tuo momento! Sì, che doveva essere il mio momento, vattene! Ciao, ciao Fere! Allora ti posso dire un'altra cosa, scendi! Ok! Scendi, sei pronto? Sì? Sei pronto? Aspetta, qua ti devi concentrare e avere tantissima paura! Ok! Sei pronto? Aspetta, scusa un attimo perché... Sei un po' impacciata oggi! No, lui deve tornare dentro, siccome sono tanti poco! Ok, ok, vai! Sì? Vai! Sei evoluto! Guardaci Steph, dimmi che non siamo le persone più temibili in tutta la serie, Steph! Dimmelo, dimmelo! Che siamo i più... Guarda lui, solo con uno sguardo ti fulmina e ti stende, per quello che io ho scelto te! Cavalcalo! Cavalcalo! Oh, è vero! Vai! Non si può? Eh, hai perso un punto! Eh, è un bohara, hai perso un punto, mi dispiace! Ma secondo te uno con quella faccia si può cavalcà, Steph? È per quello, perché se lo cavalchi ti uccide, capito? Ti sbrana, quindi non si può, è per quello! E ragazzi, come va? Lo so che doveva arrivare la scorsa settimana, Fere, ma siamo stati abbastanza incasinati per via di Nami, quindi hai dovuto aspettare un pochettino il tuoi video! Ma lo so, sono tristissima! Per questo caso, questo è l'episodio delle novità, Fere, perché prima di tutto ci siamo portati su tantissimo i nostri Pokémon per renderli una vera squadra forte, ed è la prima cosa importante di oggi! Poi abbiamo appunto Mark che ci regala i Pokémon, poi abbiamo la mia base segreta migliorata, si la vedrete tra poco, e infine c'è un regalo di Marci! Ok! Partiamo dal regalo di Marci, sei d'accordo? Va bene, sì, dato che Mark non è ancora arrivato, mi sembra giusto! Venga a casa mia, venga a casa mia, le faccio vedere, l'avviso già, c'è una premessa, ok? Per questo regalo, dato che ogni volta tutti ci fanno un solo regalo, ok? Ci sfideremo! Per questo non va bene, no, non va bene! Quindi noi in questo episodio andremo anche ad allenarci ancora un po' i Pokémon per cercare di avere più o meno dei Pokémon tutti allo stesso livello, e nella prossima puntata ci sfidiamo, perché chi vincerà si prenderà il suo regalo, che ti dico che è importante! Aspetta, dimmi prima cos'è, magari non mi interessa la sfida, Fere! Sì, credici, apri la cesta, vieni, apri la cesta! È rosa, Steph, quindi è mia! Fere, è la Master Ball! Eh, lo so, però è rosa, quindi le cose rosa di diritto spettano a me! Tu hai i capelli rosa, non mi sembra, anche se sei la tua casa! Io ho la casa rosa! Sì, ma perché hai avuto qualche problema mentale, e quindi è solo per quello che ho la tua casa! Allora, vuol dire Pokémon leggendario assicurato, quindi mi dispiace, non puoi vincere con nessuna argomentazione, ci sfideremo, è il vincitore della sfida del prossimo episodio, si becherà la Master Ball! Che è mia, perché è rosa! E si catturerà il proprio primo Pokémon leggendario, quindi è una roba importantissima, quindi non l'avrai mai! Non sono molto d'accordo, Steph, non sono molto d'accordo, te l'ho già detto! La minaccio! Guarda, 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 vieni fuori, vieni fuori perché qui non c'è spazio! Perché la tua casa fa schifo? Sì, tu fai schifo! Tu fai schifo! Guarda lui e dimmi che non hai paura! Eh? È cattivo, eh! Cosa hai cercato di evocare? Perché non esce fuori? Non vedo! Non lo vedo neanche qua! Ah, di nuovo? Sì! Ma mi dispiace dirtelo, ma lui è più cattivo, no, no, è più cattivo lui! Ma è più cattivo lui, guarda! Non mi interessa, perché è uscito storpio il tuo, non dovrebbe essere così alto! Dov'è, Boar? Non lo vedo, è troppo basso! Dov'è? Non lo vedo! Sto andando offeso! Andiamo a dar fuoco a tutto il mondo della Pixel, ma andiamo, dai! No, Fede, vieni a vedere la mia nuova base! Ok! Forza, su, 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 su! L'ho arredata con tanta cura e dovrebbe essere... Ma non mi interessa molto, Steph! Perché? Perché no? Ma tu mi dici sempre che a mia casa fa schifo, io sto cercando di migliorarla e a te non interessa! Allora, è super segreta! Ah, ok! Non so bene cosa ha di segreto, però è super segreta! Ok! Ok! L'importante è crederci! È segreta perché sta sotto terra! Va bene! Scendi! Che poi io non ho letto il cartello, anche le bolle non ho mai smesso di sognare! Non l'avevo letto! Eh, io l'ho letto fuori dal video! Ok! Bellissima! Allora! Porta! Ok! Bellissimo tappetino blu! Devi chiudere anche questa porta! Apri quella porta! E benvenuta in paradiso! L'hai combinato, Steph! Guarda che meraviglia! Eh? Allora, io secondo me... Eh? Io dico che per tutti questi macchinari tu è un po' barato! No! Perché secondo me tu non li sai fare! Ok? Gli ho chiesti a qualcun altro? Sì! A chi? Non te lo dirò mai! E chi è, Steph? Non te lo dico! È come quando uno ti dà le informazioni, mica dici il nome, capisci? Adesso andrò a scocciare a tutti finché non mi aiutano anche a me a fare queste cose! Comunque ti piace? A parte tutto! Sì, dai, no! È bello, è bello, è bello! Sembra più che una stanza, una specie di locale, capito? Eh, sì, sì, è quello l'obiettivo! Perché qua vieni a curarti pochi, vanno a fare tutte le cose varie! Sì, anche io con i macchinari poi specialmente sono abbastanza indietro! Solo il PC che ci ha dato sempre Mark! Io di mio non ho fatto niente! Questa cosa l'hai notata? Sì! Hai fatto le statuette! In realtà devo aggiornare perché si è evoluto Infernape, quindi lo devo aggiornare! Però è la mia squadra! Sì, sì, ho notato! E sono quattro perché gli altri due che sono Mr. Mime e Togetic io sinceramente non li voglio! Quindi penso che piano piano li metterò nei computer, li lascerò lì! Che ancora non ho deciso quale sarà la mia squadra definitiva, ho sempre indeciso! Forse voglio anche catturare qualche altra cosa, vedrò un pochettino come va oggi! Ok! Beh, è arrivato Marco finalmente! È il nostro momento! Eh sì! Però siamo anche in un luogo particolare! Sì, siamo in un posto strano qui eh! Dove c'hai portato? Il posto è in un posto! Eh ragazzi, siete in un posto molto strano perché abbiamo mostrato una stanza che solo io tecnicamente perché vedo anche un sono stato qui ma non è mio questo cartello! Quindi... Tecnicamente! Ma... Qualcuno ha già scoperto! Opsone! Però è la mia stanza segreta anche! Ma non è più segreta! È un momento triste! È segreta Stef! Zitto dai! Questa è la reaction di Mark allo scoprire che non è più segreta! Esatto! Non so neanche volerlo! È vero! Però nessuno sa niente! Facciamo pinta di niente! È segretissima! Segretissima! Andiamo! Va bene! Ok! Vai! Andate voi! Ok! Uh! È carina! Uh! Stra bella però eh! Mi piace un sacco! Vero? Mi piace! È molto molto! Bello questo legno messo così che fa questo effetto un po' strano! Mi piace un botto! Ma io non sapevo se potessero mettere le time frame così nelle ceste! Sono bellissime! Mi piace! Eh sì! Sì perché almeno le smisti bene! Sì 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 sì! Tutto super ordinato! Molto molto bello! È vero! Allora! Allora! Non perdiamoci in chiacchiere! Dato che devo scambiare Pokémon non ne approfitto per darti un attimo il mio cadavro! Così si evolve pure visto che ci sono! Faretune mentre vai al pc a prenderti! Ok sì a prendermi un Pokémon inutile! Va bene va bene! Allora quindi ti do cadavro dammi qualcosa a caso! Facciamo! Allora io ti do un questo! Ok! Così almeno mi prendo anche un bel! Alla Kazam! Dai guardami che mi stelle il vento! Guardalo! Ma è bello! Hai un Mark Kazam! Sì sì perché è un po' l'animazione! Siete un tutt'uno poi! Un tutt'uno quindi no! Esatto! Oh ma è gigante pure! Mi ha una tela grande! Ok! Buono 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 buono! Sono felice! Sono felice! Ok! Ok ora posso scappare! No! No! Sto aspettando sto momento della vita! Allora! Sto evocando pochi mostrani! Cioè c'è una confusione! Cosa sta succedendo? Aspetta! Aspetta un attimo! Si sta flippando tutto? Esatto! Ok! Ok ci siamo! Ok ci siamo! Ci abbiamo fatto! Ci abbiamo fatto! Aspetta che me lo guardo! Ciao bella la Kazam! Eh tu sì che sei bello! Che bello che è! Bello! Mamma mia! Insieme allo Shytor diventano davvero fighi insieme in squadra! Io devo scegliere che Pokémon darti! Allora! Vuoi qualcosa di buffo o vuoi qualcosa che può essere un po' utile? Io sto dando qualcosa di totalmente inutile che avevo doppio quindi... Li fai vedere il pulmino! Falli vedere il pulmino! No smetti! Falli vedere il pulmino! Sì sì noi lo chiamiamo pulmino! È odioso! Ho tratto sto Pokémon che dice che è un autobus! Dimmi che non è un autobus! E me lo sono tenuto in squadra perché ormai ci sono troppo affezionato! Non l'ho mai visto! No bello è bello! È troppo carino! È diventato il simbolo della nostra serie ormai perché è troppo... Praticamente stavamo facendo la sfida di chi catturava il Pokémon più buffo! È vero che è uscita con questa roba qua che è un pulmino e non vale! E quindi ho vinto! Ha stravinto così! Capito? Io avevo tutta roba carina! Mi ha emozionato! Ma lei mi ha massacrato! È paragonabile forse al mio Pokémon delle corse! L'Urssory in pulmino! Sì è vero! È vero! Sì 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 sì! Allora Fede parti tu che tanto so che stai aspettando questo Ivi da 72 anni! Vieni! È per te! Che bello! Oh mio Dio! Adesso ovviamente... Uno... Allora... Vieni Mark vieni! Il momento più bello della mia vita questo! Vieni via 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 via! Lascia! Adesso deve fare i cinque minuti dove fa... Oh mio Dio che carino! Capito? Ce ne andiamo un attimo! Dove devi vedere Ivi però! È piccolissimo e fa troppo ridere! Dimmi! Scappiamo! No no! Non scappa! Dobbiamo scoprire chi è stato a mettere il cartello! Oh io non so più come si esce! A parte che lo togliamo così non è mai stato qui! Prima di tutto! Ma io... Perché ho un cartello in mano? Perché l'ho rotto! Raga? No ma io non ricordo niente! Però è un cartello qua? No non c'era niente qui eh! Guarda che... Non c'era nulla! Non c'era state ricordando male! Non c'era nulla! No ok! Ma perché siamo qua? È comparso un cartello! Non lo so! Ah! Ok! Fammi vedere se tu... Oh! Che paese è carino! Vai che carino! È troppo bellino! Allora! Che super carino! Hai già deciso in che cosa lo evolverai? No! Quella è la parte più difficile! Ok! È la parte più difficile! Guarda! Fere! Facciamo una cosa! Io avevo scelto un Umbreon per quel Livi! E volevo anch'io un Umbreon! Quindi mi sa che ci stiamo già capendo! È la mia evoluzione preferita! Anche a me piace un po' Mi renderesti felice! Potrebbe essere la scelta! Io guarda! Prima di iniziare il video! Cioè Steph mi ha chiesto Ma poi hai scelto in che cosa lo evolvi? Io ho detto Non lo so! Forse un Umbreon! Cioè davvero lo sto mentendo! Confermo! Confermo! Cioè l'ho detto davvero! Con i migliori amici che siamo! Esatto! Quindi adesso in onore di Mark Io devo farlo evolvere in un Umbreon! Ci sta! Anche a me piace bello Umbreon! È bellissimo! È bellissimo! Allora! Adesso odiamo il mio Pokémon ridicolo! È anche il tuo! Che è questo cosetto qua! Ma che Pokémon è? Evocalo! Evocalo! Oh mio Dio! Ma che cos'è? Ragazzi! Ma dove l'ha trovato? Dove l'ha trovato? L'ha trovato in giro! Quando stavamo facendo la corsa La sfida Praticamente prima di iniziare 10 minuti prima di iniziare L'ho trovato in giro nel ghiaccio Che sciava! È stranissimo! E ho fatto Lo devo prendere! Molto strano! Mamma mia! È inquietante per di più! È inquietante un po' Però scusate ma Devo vederlo! Oh! Olè! Oh yes! Bello! Ma si può vedere che bello! Oh mio Dio! Basta! Ok! Fer l'abbiamo perso! Con questo no eh! Non glielo potremmo far fare! A domani! Guardalo! Ringraziate che non siamo in giro Perché avremmo iniziato a vorare! Oh che cosa fantastica! Ma in realtà cammina non vola Perché non puoi volarci su mi sa Cammina! Ah! E beh contando che lui sta un po' fluttuante Quindi è quello Eh sì esatto Fluttua! Mettiamolo così è vero? Sì 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 Però va bene anche così Tanto per volare c'ho Questo coso brutto Mi devi consigliare un Pokémon volante bello Perché a me lui non piace Questo! Chi hai? Oh che cos'è? Uuuuh! Bello questo! È un Pokémon Dragoterra È veramente bellissimo È super forte soprattutto Tra bello! È fighissimo! Questo lo vogliamo io! Bello eh! Mi piace un sacco Altrimenti prendo un Pokémon leggendario Con la Master Ball Che ci ha regalato Marci Tieni Sì la Master Ball fint La Master Ball fake Quella Lo so L'abbiamo scoperto dopo Però La volete? Eravamo anche felici Eh No 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 Vabbè bello Vabbè bello Sono una rabbia Ferre non vogliamo Master Ball Nessuno C'ha mai l'uso su una Master Ball No certo A noi non interessano Ti ho detto possiamo raggiungerlo Ma ricordarsi tutta la combinazione Per riarrivarci Non è così banale Eh hai fatto una bella strada complicata Comunque un consiglio Dato che c'è stato un cartello Che non esiste Ok Secondo me dovresti creare Una combinazione Di quello che ho visto Quando stavamo venendo Per sviare le persone Tipo che puoi scendere nella lava Pensa che bello Ma in realtà c'è una zona sviante Ma con la lava Devi essere cattivo Così si bruciano tutto Va bene ci sa E anche i Pokémon Potremmo prepararlo assieme Ci sa mi piace Beh ragazzi Se non ci siete Lasciateci un like Questa è la prima volta Che vi è venuto il nostro video Potete considerarli Devi iscrivervi Per non perdervi gli altri bisogni Ciao Alla prossima Ciao